Siamo a lavorare, sono stato ieri pomeriggio in Parlamento al Senato per la conversione del decreto. La scadenza è il 30 aprile, Ministro, per presentare queste modifiche. No, non stiamo lavorando, non diamo scadenze, ne parliamo con Cami. Teoricamente era quella, pensate di farla slettare? Sì, ma signori, dovete stare qui. Sì, sono gli esponenti della maggioranza che dicono che arriviamo indietro i debiti. Buongiorno, allora il pressing sul Ministro Fitto per capire quali saranno i tempi per il PNRR. Sapete che c'è la disponibilità a parlarne, a discuterne in Parlamento e avete sentito appunto le poche dichiarazioni del Ministro. Cominciamo da qui questa mattina, naturalmente. Do il buongiorno agli ospiti in studio Cecilia D'Elia per il Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Nicola Rossi, Presidente dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno. Buongiorno, bentornato. E Francesco Giubilei, Presidente della Fondazione Tartarella. Allora, dunque, oggi c'è un'intervista molto importante sul Sole 24 Ore a Tony Murphy. Tony Murphy è il Presidente della Corte dei Conti Europea. Il titolo è Per il PNRR Italia servono tempi più lunghi. La Corte dei Conti dell'Unione Europea, una delle sette istituzioni comunitarie sul fronte controverso del PNRR, ha un ruolo cruciale. È chiamata a verificare il corretto uso del denaro. E in questa intervista alla Sole 24 Ore, Tony Murphy nota alcune gravi carenze nel controllo dei soldi che ipotizza che le difficoltà dell'Italia nell'investire siano non poche. Il denaro e le difficoltà sono dovute a un eccesso di fondi a disposizione. E più in generale mette in luce il rischio di non portare a termine il piano di spesa. Allora, Rossi, cominciamo da qui, perché questa intervista oggi è molto importante e non esclude, tra l'altro, che i co-legislatori possano considerare davvero di dare più tempo. Mi sembra che abbia capito tutto. Si è riversata sul Paese una quantità molto significativa di risorse, io credo presa in maniera imprudente, a suo tempo, nel 2020. Perché? Perché potevamo fare tranquillamente come sta facendo la Spagna, cioè chiedere ai fondi via via che i progetti erano pronti e non invece raccattare tutto quello che c'era sul tavolo pur di raccattarlo, senza avere un piano prima. Detto questo, cosa ha fatto a capo A? Siamo a questo punto, io credo che l'atteggiamento del ministro Fitto sia del tutto ragionevole. Vediamo esattamente a che punto sono i diversi progetti e su quella base poi si decide sia l'atteggiamento da tenere nei confronti dell'Unione Europea, sia come effettivamente sostituire progetti che dovessero essere troppo lenti oppure troppo inefficaci. Perché il vero problema qui non è tanto la lentezza, il vero problema è che anche le analisi del Ministero dell'Economia segnalano come solo progetti straordinariamente efficienti possono permetterci di ottenere l'obiettivo che vogliamo in termini di crescita. Altrimenti avremo quello che è successo nel mezzogiorno per vent'anni, soldi spesi che però non lasciano niente sul terreno, per così dire, questo non ce lo possiamo proprio permettere, perché questi sono a debito, non sono, diciamo, nessuno ce li regala questi soldi. Quindi è un atteggiamento responsabile, così come io credo sia molto responsabile, che il governo riferisca in Parlamento, perché questo è un problema serio che riguarda l'intero Paese, diciamo, non è una questione che può essere affrontata leggermente o come una polemica politica qualunque. E questo è importante, no? Questa è stata la richiesta delle opposizioni. Mi sembra di aver sentito ieri Donzelli in una trasmissione televisiva dire quantomeno noi lo abbiamo fatto. invece precedentemente ci è stato consegnato, diciamo così, con il governo Draghi, il piano due ore prima e senza nessun tipo di discussione, questa volta il governo invece apre ad una discussione. Beh, veramente la discussione è stata aperta in maniera molto disordinata e confusa dal fatto che ci stanno state alcune posizioni di alcuni esponenti della maggioranza, che tra l'altro erano anche nella maggioranza dell'altro governo, perché sembra che Draghi c'era solo il Partito Democratico a governare e dicendo addirittura, mettendo in discussione il fatto di portare avanti il piano nazionale di ripresa e resilienza. Io penso che al di là del giudizio, io credo che l'Italia abbia fatto bene, uscivamo dal Covid, cioè noi dobbiamo anche ricordarci in che situazione abbiamo chiesto quei soldi e combattuto tra l'altro per avere quei soldi. È vero che sono anche debito, è vero che non siamo di fronte a un piano burocratico, ma a un piano straordinario di investimenti per questo Paese. Noi abbiamo chiesto che il governo venga a riferire in aula, siamo pronti ad aiutare, cioè il punto che noi abbiamo chiesto è che non ci possiamo permettere a questo punto il fallimento. Ci sono alcune cose di questo piano, ci sono alcune cose importantissime che riguardano tra l'altro il contrasto ai divari di questo Paese, da quello di genere a quello tra nord e sud. Ci sono fondi che noi non possiamo permetterci di perdere, penso a quelli dei servizi 06, ma a quelli delle infrastrutture. Quindi il tema è fateci capire che cosa volete fare e soprattutto venite in Parlamento a discutere con noi, perché anche tutto il decreto sulla governance è stato sbloccato ieri praticamente in Senato, ma noi abbiamo atteso i pareti della maggioranza, cioè c'è una discussione che riguarda la maggioranza e su cui la maggioranza si deve assumere la responsabilità di dire che cosa vuole fare. Rampelli. Intanto vorrei ricordare, perché penso che aiuti anche chi ci ascolta, che questo PNRR deriva dal recovery fund, mille miliardi messi a disposizione dell'Europa, circa 200, poco più, vengono messi a disposizione di Italia, che intende consumarli con il PNRR. dal 2021 a oggi i passaggi sono stati tanti, quindi la richiesta di chiarimenti sinceramente è surreale, fermo restando che Fitto ha già annunciato che si renderà disponibile come già si è reso disponibile andando in Senato nella giornata di ieri a riferire alla Commissione. Ma le cinque emissioni non le abbiamo stabilite noi, non le ha stabilite il nostro Governo, la nostra maggioranza, neanche i 55 obiettivi. Le 25 scadenze previste, di cui 20 dall'Europa e 5 nazionali, non le abbiamo certamente attraversate noi, noi ovviamente siamo chiamati a fare il nostro, ma sono questioni che vengono da lontano. I 107 dirigenti, i 550 funzionari, i 366 consulenti, sono stati scelti tutti, che si stanno occupando del PNRR, dal precedente Governo, anzi dai precedenti Governi, perché un altro problema che è stato posto in rilievo dalla Corte dei Conti è che ci sono stati, diciamo così, due piani che sono stati presentati e questo ha creato qualche problema. Ma io non voglio dare la colpa a nessuno, perché sono d'accordo sul fatto che questa occasione vada messa a frutto e riguarda tutti e proprio per questo mi stupisco che ci possano essere delle polemiche, fermo nestando che noi governiamo da cinque mesi e che questa roba qui è stata impacchettata, progettata, immaginata, con delle prospettive che non ci appartengono, ma comunque, pur non avendo scelto noi, pur non avendo scelto noi i progetti, faremo il nostro per consentire che questo piano, con tutti i finanziamenti di cui si parlava, atterri e possa offrire benefici a tutta la nostra comunità. Da questo punto di vista abbiamo chiesto elasticità, abbiamo trovato la solidarietà del Commissario Gentiloni, che sta lavorando con noi per rendere l'Europa più duttile rispetto a queste esigenze anche di slittamento dei tempi. C'è una nuova linea che è stata aperta dall'Europa e questo ci può aiutare e noi stiamo anche tentando di spostare sul fondo di sviluppo e coesione, che è un fondo che non ha scadenza, una parte dei soldi che probabilmente non potrebbero atterrare entro il 2026 perché ci sono problemi. Magari se andiamo avanti ne parliamo pure da parte delle amministrazioni locali. C'è un problema nella maggioranza con la Lega che continua a dire che alcuni progetti, diciamo così, potrebbero anche essere accantonati perché inutili o comunque non indispensabili. La dichiarazione che è stata fatta, secondo me, da Molinari è una dichiarazione che ci sta tutta e non è molto distante rispetto a quella che poi è stata la risposta del Presidente Meloni. Certo, se uno vuole trovare le differenze ci si mette di buzzo buono, sicuramente le trova, però in realtà si dice cerchiamo di utilizzare tutti i fondi che l'Europa mette a disposizione, siccome sicuramente alcune partite rimangono fuori, proviamo a rimodulare l'accesso ai fondi attraverso le due linee che io vi ho appena illustrato. Però Molinari ha detto oggettivamente di restituire, valutiamo se dobbiamo continuare con alcuni progetti e questo è una proposta a cui è stato disposto se Molinari si riferisce a quella parte di finanziamenti che non potranno atterrare perché entro il 2026 non saranno realizzate le opere, certo non per colpa nostra, proviamo a utilizzare lo stesso quei fondi rimodulandoli. Quindi diciamo che Molinari ha denunciato una questione che ci sta, alla quale è stata data una risposta per provare ugualmente a utilizzare l'intero importo di 200 miliardi. Perché tanti di quei progetti sono gestiti dagli enti locali, hanno bisogno di certezze, hanno votato i bilanci di previsione in cui ci sono quelle progettualità. Quindi c'è il tema di una cabina di regia e anche di rimandare, magari di usare i fondi strutturali, non è una cosa da poco, per questo noi chiediamo chiarezza e chiediamo un dibattito in aula. Cioè voi vedete due visioni differenti all'interno di questa maggioranza? Sì, noi vediamo confusione all'interno. Se posso permettermi. Il dibattito in aula, che non è stato consentito dal precedente governo, noi lo abbiamo già programmato. La vera chiarezza, c'è bisogno su un punto, che cosa vogliamo? Allora, prima sentivo dire che questi soldi li dobbiamo spendere tutti. Io credo che questo sia un punto di partenza veramente, profondamente sbagliato. Ripeto, sono i numeri del Ministero dell'Economia, non quelli miei, che dicono che se noi questi soldi li spendiamo in maniera poco efficiente, il tasso di crescita aggiuntivo è roba di pochissimi decimali, il che non ci consentirà mai di ripagare il debito che stiamo facendo. Questi soldi li dobbiamo spendere in maniera più efficiente possibile. Possibile. E se così non è pazienza. è un atto di onestà e di serietà nei confronti dell'Europa dire che se così non è preferiamo non usarli. E quindi vanno visti bene i progetti. che vanno visti progetto per progetto e bisogna accertarsi che ogni progetto lasci qualche cosa sul terreno. Se no... Abbiamo alle spalle 25 anni di esperienza nel Mezzogiorno in cui abbiamo fatto, abbiamo speso i soldi perché bisognava spenderli comunque. e non è rimasto niente. O non li abbiamo spesi perché non ci dobbiamo dimenticare che uno dei principali problemi del nostro paese... Io sto parlando di obiettivi. Però essendo un prestito è il fatto che molti fondi ordinari che ci arrivano dall'Unione Europea, in particolare in alcune regioni, non vengono spesi. Quindi talvolta è successo negli anni passati che i fondi ordinari che ricevevamo li mandavamo indietro perché non venivano utilizzati. Il punto è la famosa differenza se vogliamo tra il debito buono e il debito cattivo. Nel senso che una volta che si fa un prestito noi dobbiamo fare in modo che queste risorse vengano utilizzate come veniva detto poco fa per dei progetti che abbiano una ricaduta anche da un punto di vista di posti di lavoro senza dubbio ma di crescita. Quello che è accaduto nei mesi passati con il PNRR anche sui territori di cui si parlava perché diciamoci la verità è che tanti comuni avendo delle scadenze che erano estremamente brevi perché il problema che pone il governo è quello delle scadenze e avendo delle scadenze brevi avendo degli organici che talvolta non erano in grado in particolare nei piccoli comuni e basta parlare con tanti amministratori lo raccontano non erano in grado di fare di presentare dei progetti nelle tempistiche sono stati talvolta presentati dei progetti che magari non avevano una grande utilità quindi qual è il punto? Il punto è cercare di chiedere delle tempistiche più lunghe per fare in modo che le grandi opere con le infrastrutture necessarie proprio per generare una crescita al paese possano essere realizzate. Ora la scadenza del 2026 è una scadenza molto breve in termini temporali. Quando parliamo poi di 2026 di scadenza vuol dire che l'opera deve essere già realizzata? E collaudata. E collaudata. Non che nel 2026 abbiamo approvato il progetto e si comincia. E noi sappiamo benissimo le tempistiche per le grandi opere che poi è un tema che non riguarda in realtà solo l'Italia perché anche in altri paesi europei quando si devono fare grandi opere penso all'aeroporto di Berlino perché talvolta si parla sempre male dell'Italia ma se guardiamo anche nel resto d'Europa ci sono degli episodi in cui sulle grandi opere ci sono delle problematiche però il tema è che da oggi al 2026 riuscire a progettare un progetto sbloccare i fondi aprire il cantiere con il tema poi di tutta la burocrazia nonostante il codice degli appalti che sia positivo perché aiuta a sburocratizzare siamo onesti non ci sono le tempistiche quindi è una richiesta di buon senso che credo l'Unione Europea debba tenere in considerazione. Delia No, io la cosa che voglio dire non stavo parlando io parlo di obiettivi del piano nazionale di ripresa e residenza prendo quello su cui ho lavorato di più anche come democratiche che è la questione dei servizi educativi io per esempio non avrei fatto i bandi per i comuni perché mettere a bando quando tu hai un obiettivo che il 33% che tra l'altro questo paese si era già dato di aumento dell'offerta formativa per lo 0,6 allora quello io vorrei raggiungere quell'obiettivo per raggiungere quell'obiettivo devo sostenere i comuni ne fare i bandi però l'obiettivo che quel PNRR si è dato e cioè per esempio l'occupazione femminile c'era una clausula che noi abbiamo tanto voluto che invece viene aggirata da gran parte dei progetti che riguarda l'occupazione femminile e giovanile cioè che dentro questa transizione noi aumentiamo l'occupazione femminile che su questo spero non mi di per sé è un fatto che aumenta il PIL di questo paese perché crea una nuova economia crea quindi cioè su questo il tema è questo cioè questa maggioranza vuole portare avanti quegli obiettivi del piano nazionale di ripresa e residenza e soprattutto essendo un obiettivo del paese io lo toglierei del paese certo mi è stato detto discutiamone e vediamo dove no? cioè dove bisogna intervenire o non bisogna intervenire ma portiamo avanti però è anche diciamo credo onesto dire che mettere proprio inaugurare col taglio del nastro nel 2026 perché di questo si parla forse iniziare a dire che per qualcosa non ce la faremo forse è onesto se c'è un tavolo su cui lo vediamo insieme ci sarà certo in Parlamento poi vengono tenuti fuori sono stati tenuti fuori dei progetti che invece servivano penso a delle tratte di alta velocità in alcuni territori che non si sono potute fare perché le tempistiche erano troppo brevi per cui tu rischi che prendi questo prestito che è enorme perché tra i soldi a fondo perduto quelli in prezzo sono per l'appunto 200 miliardi e poi non riesci a realizzare determinate opere che invece ti servirebbero nel paese in particolare sulle infrastrutture e rischi poi tra tre anni di dover utilizzare nuovi fondi a debito per fare delle opere che invece ti servono è proprio sbagliato la tempistica e alcuni passaggi va rivisto allora Rossi vorrei citare un altro passaggio di questa intervista perché è importante poi capire e sapere che cosa accade a Bruxelles perché da lì parte Bruxelles sta valutando in queste settimane una terza richiesta di pagamenti da parte dell'Italia come si svolge l'iter e risponde sempre Tony Murphy nei fatti il governo italiano deve dimostrare documentazione alla mano di avere rispettato impegni e obiettivi null'altro la Commissione europea ha promesso che successivamente farà ulteriori controlli relativi a possibili casi di conflitti di interesse frode corruzione o eventuali doppi pagamenti come dicevo prima manca il controllo di Bruxelles sul rispetto delle regole nazionali ed europee in materia un aspetto non banale a nostro avviso ciò rappresenta un grave rischio per gli interessi finanziari dell'Unione Europea in pericolo è la reputazione stessa della UE eh certo questi sono soldi che tutti gli europei hanno preso a debito per darceli non è che vengano diciamo dal cielo per cui mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni che Bruxelles possono avere ma proprio a fronte di questo credo che un atteggiamento diciamo sincero sincero da parte della parte dell'Italia non possa che essere apprezzato diciamo da questo punto di vista dopodiché segnaliamo un punto fino a dicembre scorso gli adempimenti erano in larga misura formali e infatti li abbiamo rispettati tutti ora si comincia a fare le cose sul serio e capisco perfettamente che per un governo che si è insiediato cinque mesi fa non è facilissimo diciamo le cose cominciano a essere e in questo senso penso che questa istruttoria che viene fatta dal ministro Fitto sia benvenuta perché così finalmente capiamo che cosa è fattibile che cosa non è fattibile in che tempi è fattibile e quali altre soluzioni adottare eventualmente contando anche sul fatto che il rapporto con l'Unione Europea l'Unione Europea ha tutto l'interesse che noi questa cosa qui la portiamo a termine quindi non mi aspetto chissà quale muro però a fronte di questo da parte nostra ci deve essere un atteggiamento responsabile per i tempi Rampelli per la tempistica è 30 aprile la scadenza diciamo così anche di questa verifica parlamentare la scadenza più prossima è quella del 30 aprile ovviamente ce ne sono a Iosa un'infinità di scadenza quindi insomma come è ovvio che sia per questo programma intenso fino al 2026 però tutta la questione ruota intorno ai tempi dall'origine perché probabilmente il negoziato con l'Europa sulla tempistica è stato un negoziato che non ha dato diciamo così il risultato sperato ed è anche per questo che noi da subito abbiamo chiesto comunque una dilatazione dei tempi anche se in Europa non c'è l'usanza tipicamente italiana o prevalentemente italiana di prorogare praticamente tutte le scadenze però questo è il punto noi molte questioni però c'è stata concessa non direi anche in questa intervista si parla proprio di un'esigenza per il capitolo Italia di allungare i tempi anzi vorrei informare chi si fosse distratto che noi siamo combinati bene perché siamo comunque nel gruppo di testa nella capacità di assolvere a tutte le prescrizioni che l'Europa ci ha messo sul tavolo resta il fatto che fin dall'origine dicevo cioè dai progetti che sono stati presentati comunque si è tentato di andare a rovistare nei cassetti per riesumare progetti che già avevano un certo grado di definizione quindi a tal volta anche diciamo così prescindendo dal merito mi permetto di dire e aggiustando in corso d'opera perché i tempi comunque sono importanti anche per la progettazione sono importanti per l'anisi sono importanti per la scelta di quelle che poi sarebbero state definite missioni o dal punto di vista degli obiettivi italiani gli obiettivi per l'appunto quindi certamente se ci sarà concessa questa dilatazione dei tempi potremmo meglio adempiere al nostro compito noi ma tutte le nazioni europee una verifica una verifica una verifica dei progetti va fatta oggi la verità è andata a cercare appunto come vengono stanziate queste risorse dai bocciodromi ai campi da tennis padolum presepe vivente insomma dice Fabio Dragoni che ha curato questa inchiesta invece che andare a realizzare o a investire su cantieri veramente strategici per il paese ci sono anche tanti di questi di questi progetti dell'IA hanno avuto luce verde pure un servizio di etnopsichiatria da 5 milioni e il museo del giocattolo medievale 2.0 insomma come sempre c'è un po' di tutto dentro questa sarà la progettualità degli antilocali a me diciamo questa discussione mi preoccupa mi preoccupa perché degli antilocali perché no questi progetti di chi sono comuni dei comuni ma il fatto che bisogna avere una cabina di regia e verificare a che punto è il piano nazionale di ripresa di residenza io sono d'accordo temo che se noi ci mettiamo a rimettere in discussione sto parlando delle grandi opere infrastrutturali perché io ho sentito qui mettere in discussione forse più di quella ferrovia andava fatta l'altra temo che noi non dobbiamo poi chiedere una piccola dilazione di tempistica quindi la cosa che chiedo proprio perché che noi chiediamo proprio perché a questo punto noi passiamo in una fase più operativa rispetto alle altre scadenze come veniva ricordato e che ci sia chiarezza su come si vuole andare avanti su quali sono i progetti strategici che portiamo avanti c'è anche questo perché magari ma io la chiedevo anche prima vorrei che fosse chiaro che io la chiedevo anche prima sia sulla clausola che sullo 06 che sui nidi perché non funzionava i bandi per gli enti locali quindi il tema di far funzionare questo piano nazionale di ripresa e resilienza chi ci crede lo pone da tempo e soprattutto di avere degli obiettivi di transizione ecologica e di transizione digitale che ci aiutino a modernizzare il paese e questo poi che il codice degli appalti appena approvato ci aiuti io su questo è scettica no io sono molto preoccupata perché praticamente noi non metteremo più a gara nulla cioè fino ai 5 miliardi e che i rischi di criminalità e di coi io su quello che è stato appena approvato sono molto contraria e molto preoccupata perché non è quella la semplificazione quella è the regulation io so che era una delle cose che bisognava fare proprio per il PNRR e bisogna convedere come la fai in lunghissima misura quello che è stato fatto mi sembra che riprenda quello che era stato immaginato dal governo Draghi e poi riferisco l'opinione di un giurista che stimo che è Giovanni Guzzetta il quale appunto diceva che in realtà se si va a guardare non il numero degli appalti che è una cosa e dipende da quanto minuti sono diciamo ma l'entità degli appalti alla fine la parte che non va a gara è il 5% del totale ora io capisco benissimo che si debba il numero degli appalti non l'entità degli appalti si riguarda l'entità è il 5% ora anche il 5% è un problema serio se c'è un problema di corruzione però insomma stiamo parlando di una cifra un po' diversa allora andiamo in pubblicità e poi torniamo sono ovviamente molto lieta di questo incontro che abbiamo tenuto con il presidente spagnolo Pedro Sanchez che ringrazio per essere venuto qui ovviamente molte sono le materie sulle quali Italia e Spagna si trovano ad affrontare ovviamente lo stesso punto di vista e molte sono le convergenze che già in questi mesi all'interno del Consiglio europeo abbiamo spesso trovato su diverse materie particolarmente importante questo rapporto diventa nel momento in cui la Spagna si prepara ad assumere la presidenza di turno del Consiglio europeo e credo che fosse particolarmente importante per noi attraverso questo incontro fare diciamo lo stato dell'arte sulla sintonia tra le nostre nazioni sulla necessità che l'Europa particolarmente sul fatto che l'Europa in una fase così delicata su alcune materie che noi stiamo discutendo e che abbiamo discusso anche nel bilaterale di oggi dia risposte efficaci ed immediate i temi li conosciamo sono i temi che abbiamo discusso e che discutiamo quotidianamente negli ultimi mesi particolarmente per parte italiana ma anche per parte spagnola il tema delle migrazioni è un tema molto importante su questo il cambio di passo lo abbiamo detto diverse volte di un'Europa che oggi guarda con molta più attenzione ai confini diciamo alla difesa dei suoi confini esterni è un passo importante ma conveniamo che nel prossimo Consiglio Europeo di giugno si possa fare stato degli avanzamenti concreti da parte della Commissione europea sulle iniziative che è necessario portare avanti a partire dagli stanziamenti dagli investimenti fondamentali per collaborare cooperare e trovare soluzioni strutturali con i paesi del Nord Africa Allora così Presidente Consiglio ieri con Sanchez ha parlato anche dei soldi delle risorse che vanno e sono stanziate anche per il capitolo migranti nella parte accoglienza evidentemente intanto do il buongiorno a Claudio Velardi che ci ha raggiunto in collegamento Buongiorno Good morning Posso dire good morning? Ma certo che sì Giuro Rampelli che dopo le faccio spiegare questa storia della lingua italiana e inglese però ha visto ho detto good morning e non sono stata multata ancora per il momento poi la spieghiamo Velardi Non parli troppo presto Ecco è una minaccia Velardi allora volevo sentire anche te sul discorso del PNRR anche declinato oggi alcuni giornali dicono ecco le risorse finiranno tutte per i migranti per il piano dell'accoglienza insomma poi ognuno la tira come sempre dove crede tu sei pessimista o ottimista su questi fondi e il tempo che stringe? Beh dovendo guardare alla storia dei fondi perché sempre di fondi europei e pubblici si parlava la storia degli ultimi mi pare 25 forse qualcosa in più anni non induce all'ottimismo perché i fondi sono sempre stati spesi molto male dall'Italia o non sono stati spesi o direi quasi peggio ancora in diversi casi sono state create delle opere che poi non possono essere gestite per mancanza di risorse per mancanza di progettazione perché non come dire non sono fatte con l'idea che poi debbano creare ricchezza sviluppo e anche profitti e quindi se si va in giro per il mezzogiorno si trovano un sacco di manufatti realizzati con fondi europei che vanno al degrado al disastro quindi il passato induce pessimismo con il PNRR siamo partiti abbastanza bene però siamo ancora molto al di qua diciamo degli obiettivi veri che sono appunto quelli di realizzare cose e di metterle al servizio della crescita e dello sviluppo ora mi pare di capire il governo vuole un poco rivedere il piano secondo me è giusto ma è normale che si faccia così insomma cioè dopo un certo periodo un qualunque progetto deve essere aggiornato rivisitato corretto se è necessario perché nel frattempo la realtà cambia e aggiungo un'ultimissima cosa poi non è detto neppure che i soldi debbano essere spesi purché sia i soldi devono essere impiegati bene e devono appunto creare ricchezza devono essere depositati nella maniera giusta sui territori almeno scandalizzerebbe neppure se poi a un certo punto uno dice se no grazie questa parte di denari di questa parte di denari non abbiamo bisogno faremo una bella figura secondo me in questo caso poi c'è un tema che abbiamo trattato anche l'altra mattina che è un tema che riguarda molto le risorse proprio le risorse umane e la pubblica amministrazione oggi viene lanciato l'ennesimo allarme pensionamenti e anni di austerità i comuni sono a corto di tecnici competenti cioè invece di assumere poi quei tanti giovani di cui spesso ci riempiamo la bocca ma senza poi dare delle opportunità la verità è che questi progetti per essere messi su carta quantomeno hanno bisogno appunto di essere messi su carta e tanti comuni non hanno proprio il personale sì sì ma questa è una vera tragedia naturalmente soprattutto nel mezzogiorno ma questo è anche il motivo per cui si fanno dei progetti farlocchi bislacchi non avendo competenze tecniche per mettere su dei progetti ben strutturati e che ripeto vadano a reggire prime nella maniera giusta e che quindi creino ricchezza sviluppo e si mantengano da soli perché questo è il punto di fondo e quindi non sapendo fare queste cose qui perché nei comuni mancano nei comuni non solo mancano proprio le competenze ci si rifugia in alcuni progetti abbiamo letto forse anche stamattina sui giornali insomma tipo che si finanziano dei progetti bislacchi definiamoli così definiamoli così però la dobbiamo dire tutta una parte significativa dei soldi che negli ultimi 25 anni sono stati destinati al mezzogiorno erano destinati ora senatore dico una parolaccia ai progetti di capacity building va bene? accidenti e ora come facciamo? a distanza tradotto troviamo la seconda multa dare ai comuni la possibilità esattamente la progettualità la capacità di progettare di gestire i progetti eccetera ora dopo 25 anni dopo tutti quei soldi che sono stati riversati sui comuni per questo obiettivo che i comuni dicano non abbiamo la capacità per progettare un po' di irritazione viene naturalmente no? è vero certamente è vero ma che hanno fatto con quei soldi negli ultimi 25 anni? Edelia però a questo non si è pensato all'origine perché poi noi prendiamo sempre no non è vero all'origine non si è pensato a questo o quantomeno magari di accorpare quei piccoli comuni che hanno diciamo delle dimensioni talmente piccole che non ce la fanno no intanto voglio dire forse anche noi dovremmo uscire un po' dalla cosa generale perché ci sono anche regioni che hanno usato molto bene i soldi dell'Europa anche nel mezzogiorno anche nel mezzogiorno penso alla Puglia però voglio dire anche noi forse dovremmo perché sennò ci facciamo del male da soli come sistema paese il tema della capacità di progettualità degli enti locali e del sostegno di una cabina di regia che aiutasse gli enti locali è un tema serio io l'ho detto io non avrei proprio fatto i bandi su alcuni servizi per gli enti locali avrei deciso la base dell'obiettivo che uno si dava e dell'app che deve fare quali erano le zone in cui veniva ha detto l'app eh? sì a livelli essenziali delle prestazioni quali erano le zone per esempio dove fare i nidi c'è un tema enorme della pubblica amministrazione e quindi delle persone che riguarda tutti i tecnici anche sul fronte della cultura i bibliotecari gli storici dell'arte cioè noi abbiamo una pubblica amministrazione degli enti locali fatte soprattutto questo lo dico anche dall'esperienza che ho fatto come amministratrice di gente che fa le delibere no? poi la progettualità cioè la gestione e la capacità dentro e questo è un tema enorme di rinnovamento anche di possibilità ai comuni di avere nuovo personale però come si sblocca? perché se no si sblocca con una cabina di regia che sostiene e con l'emissione di nuove forze nella pubblica amministrazione però qua dico si sblocca con una cabina di regia è sempre la solita storia come si risolve il problema di non saper spendere? spendendo di più ma no è sempre un riflesso condizionato proprio pavloviano invece posso proporre una soluzione diversa? se ci sono dei comuni in grado di spendere le risorse vada nei comuni che sono in grado di spendere al nord al sud dovunque si siano è quello che ha detto Zaya e Sala date a noi i soldi che gli altri non riescono a spendere questa soluzione non fa come dire fotografa le diseguaglianze le disparità e le aumenta c'è un principio il problema del paese no di come dire di premiare i comuni il problema del paese è di far funzionare la macchina pubblica lì dove non riesce a funzionare e questo è il problema del governo nazionale di responsabilità e certo quindi se non si è stato in grado di fare quello che si doveva fare per cui sono stati messi in campo dei soldi io non lo so perché vorrebbe delle carte pure la responsabilità da qualche parte deve essere io non lo so vorrebbe avere le carte dal governo e capire dove è io però forse da persona che sta di là dalla telecamera e magari non ha un lavoro e magari sono un giovane laureato magari sono architetto e non trovo lavoro più che sentirmi dire si sblocca con la cabina di regia mi sarei aspettata di sentirmi dire si sblocca assumendo facendo i concorsi dando immediatamente una spinta no? cioè con la cabina di regia forse sbaglio io naturalmente no 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 Gaia naturalmente poi se andiamo un poco poco più dietro non è per rinviare il problema e gettare la palla in corner se andiamo stamattina non mi ricordo quale giornale forse la Repubblica mette sui dati sul gap formativo è certo in apertura fuga dalla scuola è una cosa tremenda è una tragedia unica unica quindi per recuperare al momento io non sono non sarei contrario a fotografare la situazione non c'è niente di male Cecilia a farlo poi nel frattempo cerchiamo di recuperare mettendo mano ma sul serio alla formazione in questo paese perché solo sì no no chiedo scusa vabbè non è un'offesa si chiama Cecilia però vi conoscete vai vai quindi questo mi pare il punto strutturale che può risolvere il problema anche della mancanza di progettualità di tecnici eccetera è quello e su quello dovrebbero applicarsi tutte quante le forze politiche nessuna esclusa senza consigli tra governi e opposizioni perché il gap formativo è forse la tragedia del nostro paese ma se non facciamo le scuole perché il gap guarda che la scuola dell'infanzia c'entra col gap formativo questo è un argomento sicuramente importante che taglia trasversalmente la penisola perché non c'è soltanto un sud svantaggiato leggevo che un comune in provincia di Brescia non ha avuto la possibilità di portare avanti il proprio progetto perché ha fatto dei bandi per assumere a tempo determinato per contrattualizzare dei professionisti tecnici e non si è presentato nessuno anche perché non c'è sintonia tra la domanda e l'offerta quindi un conto è fare un concorso pubblico un conto è offrire un contratto a tempo determinato a persone che magari anche per la natura degli studi che hanno affrontato cercano qualcosa di diverso quindi sicuramente la risposta mi permetto di citarla è quella dovrebbe essere poteva essere quella di un piano di assunzioni cosa che non si è fatto anche perché nel corso degli ultimi decenni si è colpevolizzata l'intera macchina della pubblica amministrazione invece di metterla a regime invece di renderla più efficiente di aggiornarla di stimolare chi ci sta dentro a stare sul pezzo quindi a modernizzare anche le procedure a responsabilizzare si è bloccato tutto e abbiamo anche un divario generazionale importante perché tra la vecchia classe dirigente la vecchia burocrazia e la nuova intercorrono intercorreranno quando saranno fatte le nuove assunzioni oltre dieci anni di divario e questo non produce quella necessaria continuità nella pubblica amministrazione però voglio anche tornare su una questione che mi preme noi non vogliamo spendere male i duecento miliardi della Unione Europea né vogliamo spenderli a ogni costo noi diciamo cento adesso faccio cifre esemplificative centocinquanta possiamo spendere per i progetti dati bene invece di restituirne 50 proviamo a rimodulare rimodulare significa scegliere i progetti che sono cantierabili e quindi entro il 2026 realizzati e collaudati e per far questo abbiamo anche stimolato l'Unione Europea che ha dato delle risposte quante volte abbiamo sentito Giorgio c'è stata anche la guerra e quindi c'è stata la crisi energetica ecco la risposta del Repower EU che è comunque una risposta alla quale noi ci possiamo misurare possiamo indirizzare una parte delle nuove progettualità e l'altra proposta è quella che chiede all'Europa di poter parcheggiare i fondi che oggi sappiamo soprattutto quelle di infrastrutture che hanno tempi molto più lunghi di realizzazione e di collaudo di poterli parcheggiare nella parte del fondo di sviluppo e coesione che non ha scadenza quindi c'è una trattativa per tentare di non vanificare questi finanziamenti insomma non vorrei che passassero messaggi anche sbagliati quelli che possiamo utilizzare li utilizziamo tutti e subito quelli su cui ci stiamo rendendo conto che c'è un ritardo cerchiamo di rimodularli invece di restituirli e quindi di farli atterrare al punto giusto allora Giubilei io volevo stare ancora un attimo sui dati che citava prima Claudio Velardi della scuola perché è davvero significativo lascia gli studi un ragazzo su sei al sud il buco nero della scuola sono i dati svimez ovviamente c'è un'Italia divisa in due al centro nord il tasso di abbandono è del 10,4% nel mezzogiorno del 16,6% a Napoli si arriva a sfiorare il 23% ed è una disparità che riguarda tutti i servizi dalle menze alle palestre alla scuola a tempo pieno visto che parliamo ne parliamo soprattutto in questa legislatura di autonomia questo rischia di aumentare questo divario già drammatico? il tema secondo me non è l'economia ma è un problema culturale autonomia differenziale ma è un problema più che altro culturale che riguarda i giovani e in generale il mondo della scuola una delle principali problematiche della scuola italiana è lo scollegamento tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro il fatto che tanti giovani che poi escono dalle scuole non siano inseriti nel mondo del lavoro e al tempo stesso il tema della domanda rispetto all'offerta non è spesso collegato ciò cosa significa? Significa che vi sono tante professioni in cui le imprese gli imprenditori cercano dei lavoratori e non riescono a trovarli nel settore dell'industria nel settore del turismo nel settore dell'agricoltura c'è chi propone come soluzione aumentiamo il numero di immigrati per cercare di compensare questi posti di lavoro in realtà bisognerebbe fare in modo che tanti giovani che poi una volta che abbandonano la scuola c'è anche il tema della disoccupazione giovanile perché poi non riescono ad essere occupati possano poi trovare posti di lavoro all'interno di questo ambito un altro dei problemi che viene posto è il tema dei laureati ovvero il fatto che l'Italia se guardiamo le statistiche a livello europeo insieme alla Romania è la nazione con il minor numero di laureati dirò forse una cosa impopolare a mio modo di vedere il problema non è tanto che abbiamo un basso numero di laureati ma è il fatto che molti laureati non riescono a trovare lavoro nelle professioni per cui si sono laureati penso su tutte lo dico le laureate in lettere le lauree umanistiche per cui ci sono tanti laureati le lauree umanistiche che poi non fanno il lavoro per cui si sono laureati e il vero problema della mia generazione delle generazioni precedenti è il fatto che tanti laureati e non solo in generale tanti giovani quando poi entrano il mondo del lavoro entrano il mondo del lavoro delle condizioni che non sono delle condizioni buone il tema della fuga dei cervelli nasce anche dal fatto che un laureato in Italia prende uno stipendio che è magari la metà dello stesso stipendio che prende in un altro paese europeo quindi più che dire aumentiamo i laureati e poi non riusciamo a occuparli cerchiamo di fare un ragionamento sulle condizioni di lavoro dei laureati ma soprattutto sulle condizioni di lavoro di tanti giovani che poi escono dalle scuole e non riescono ad entrare in determinate professioni perché poi le condizioni e gli stipendi che gli vengono offerti non sono congrui rispetto al costo della vita diciamo che questo Claudio Velardi ci fa capire che noi ci siamo concentrati su poi solamente una parte che è il dibattito sul reddito di cittadinanza ma questi dati dimostrano altro perché poi qua cominciamo da prima il reddito di cittadinanza non si può dare la colpa al reddito di cittadinanza per un abbandono scolastico no? è l'ultimo arrivato diciamo dei danni prodotti il reddito di cittadinanza e quindi bisogna risalire tutta quanta la catena diciamo della della formazione fornire una formazione adeguata e moderna e qui c'è anche da fare un salto culturale perché poi per esempio c'è ancora diffusa forse soprattutto nel mezzogiorno l'idea che valgano certi tipi di studi e non altri c'è una pesante sottovalutazione della formazione tecnico professionale che invece al nord è più apprezzata quindi bisogna risalire piano piano gli scalini della catena nel frattempo però come diceva adesso giustamente il giubileido bisogna anche cominciare a fare incontrare concretamente domanda e offerta di lavoro nel mentre diciamo il sistema cerchiamo di rimetterlo al passo che non è un lavoro è un lavoro di lunghissima lena che però può incrociare già adesso questo gap significativo che c'è nel rapporto tra domande e offerte di lavoro ho visto che sei stato molto attento a non dire il liceo del Made in Italy però questo alla fine ce l'abbiamo già è l'istituto agrario ogni tanto torni un poco su questo tema allora lo dico un po' scherzando anche perché vedo Nicola Rossi l'ago con cui abbiamo esperienze comuni quando alcuni di noi naturalmente non il professor Rossi alcuni di noi venivano accusati di stare lì a Palazzo Chigi e essere l'unica merchant bank che non sapeva parlare inglese quindi figurati un poco quanto pesa anche personalmente quella che all'epoca ritenevo un'accusa infamante che parzialmente vera perché io a stento l'ho detto diciamo così l'inglese ma questo anche per dire che tutto sommato io capisco anche le intenzioni il senso della proposta di Fabio Rampelli però sono una lunghezza però la proposta noi la spiegheremo più avanti Rampelli ce la spiegherà perché è un po' convitato di pietra della puntata è una proposta non vi faccio parlare no no intanto è una proposta diciamo non di ora ma di qualche anno fa però però dice altro dice qualcosa sulla quale magari dovremmo riflettere però vi ci porto piano piano dopo la pubblicità ma hai sera danni ne ne sagliette tu sai adò tu sai adò tu cuore in grado più dispiette far meno può fuoco coce massi fuie della sastà e non se copri a friessa non distrui e solo a guardar fiam 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 e qui abbiamo fatto contento immagino rampelli comunque questo è uno spot realizzato in ucraina per far vedere avete visto no canzone tradizionalmente italiana il bel nostro bel paese le nostre risorse tutti i principali punti diciamo così per i quali siamo apprezzati il turismo i monumenti l'arte la cucina e poi arriva il sostegno il sostegno di fatto con le armi sono mostrate non a caso anche proprio gli armamenti impiegati e forniti dall'italia nel sostegno al popolo ucraino che ci porta a parlare anche di questo aspetto in questa maggioranza tra l'altro oggi a venire voglio ricordare parla ancora e apre con il titolo la pace nel cuore che con una rivelazione il papa a maggio era pronto ad andare nella mario pol sotto assedio e il papa continua naturalmente a pregare affinché questo conflitto possa interrompersi questo è un tema però che riguarda diciamo anche soprattutto l'opposizione o comunque il partito democratico il nuovo partito democratico dove c'è c'è una posizione che viene ribadita di sostegno con gli armamenti assolutamente c'è una posizione di sostegno all'Ucraina sul conflitto e le cause del conflitto il fatto che ci troviamo di fronte a un paese che è stato aggredito non c'è nessuna messa in discussione della posizione che abbiamo avuto fino ad oggi il tema riguarda non solo il partito democratico il tema riguarda che cosa vogliamo fare cioè qual'iniziativa diplomatica forte prendiamo per far cessare questo conflitto io non penso che questo conflitto e la pace si decida con le armi cioè un conto è consentire a quel popolo di difendersi e un altro è pensare che noi affidiamo alle armi la parola rispetto appunto che sarebbe un paradosso rispetto a una soluzione necessaria anche un protagonismo dell'Unione Europea più forte io credo perché questa guerra è qui da noi più forte per far andare avanti un'iniziativa di pace questo credo sia una una necessità che tutti sentiamo almeno Rossi come lo vede questo questo nuovo PD con una nuova segretaria Elislein che comunque ha delle posizioni ben precise che però comunque dovrà tenere come si dice spesso insieme più anime e lei il PD l'ha conosciuto lo conosce bene e quella tessera l'ha anche restituita sarebbe inelegante per me diciamo avendolo lasciato più di dieci anni fa oggi esprimermi io penso una cosa molto semplice e cioè credo che si può esprimere elegantemente lo faccio cerco di farlo in maniera credo che quello che è accaduto recentemente sia dia conferma a quello che pensavo molto tempo fa io un attimo ho pensato che il PD potesse ospitare anche dei valori liberali questo non è legittimamente come dire sono scelte culturali che si fanno ma così è e credo che quello che stia accadendo conferma che chi ha in testa una cultura liberale la deve cercare altrove dove non è ben chiaro ma certamente altrove non lì saremmo illiberali secondo me non avere una cultura liberale non significa essere illiberali significa avere un'altra ci sono molti partiti in Europa a sinistra che non si definirebbero mai liberali questa storia è solo italiana questa storia che ci definiamo liberali comunque ma vedo un'attenzione ai diritti della persona le libertà i diritti della persona senza le libertà civili senza libertà economica non vanno da nessuna parte questa è una pretesa che in Italia abbiamo spesso avuto che si potessero separare la lotta alle diseguaglianze è in contrasto con le libertà economiche perché mi sembra questo il tema io ho detto che le due cose vanno insieme e non possono essere declinate separatamente eh lo so però dovete tenere insieme diciamo la posizione di Nicola Rossi è una posizione oggi attuale io penso che il Partito Democratico abbia dentro molte culture e quindi e continua a essere un luogo plurale e quindi credo che qualche volta c'è uno stereotipo anche rispetto alla nuova segretaria eletta al fatto che non riuscirà in questo è una semplificazione io non la conosco quindi non posso esprimermi no no ma lei è stata elegansissima però è una legittima opinione e credo che lei sia stata abbia anche riacceso una speranza sia stata votata su un mandato molto chiaro di diritti civili e diritti sociali insieme giustizia sociale ambientale il cuore del problema oggi sono e non solo nel nostro paese ma in Europa e nell'Occidente sono le diseguaglianze che stanno mettendo in discussione anche la tenuta delle nostre democrazie quindi rimotivare anche alla politica perché noi stiamo di fronte a una grande astensionismo rimotivare alla politica a contrastare le diseguaglianze riportare una politica che è vicino alla vita delle persone io credo che questa sia la grande scommessa e la credibilità nuova che il Partito Democratico ha con Elislein segretaria poi appunto è tutta una cosa in divenire sì appena iniziato anche lei Claudio però è stato interessante questo breve scambio tra Rossi tu che ne pensi? è un dibattito ultra decennale di grandissimo interesse diciamo però temo diciamo che il Partito Democratico possa un po' consumarsi dentro dibattiti di questo genere mentre invece si assume un profilo più netto anche se non dovesse essere diciamo quello che appunto Nicola ha immaginato per un po' di tempo e va bene non c'è niente di male diventa più schiettamente diciamo un partito definiamo di sinistra sinistra e poi bisognerà vedere se da qualche altra parte nasce qualche altra cosa io però una parola su padisciato sul PD la volevo spendere a proposito della posizione sull'Ucraina perché un partito che obiettivamente si sta spostando con Eli Schleinen più sul versante sul versante come dire di certe pulsioni pacifiste diciamo così e più in generale su posizioni più obiettivamente radicali su tutti quanti i temi se riesce invece a mantenere la posizione che sta tenendo sull'Unità sulla scusatemi sull'Ucraina io questo la reputo è una cosa importante a cui do il valore giusto che deve avere perché è importante che il PD che è una parte fondamentale naturalmente del sistema politico italiano sia in sintonia in consonanza con tutte quante le altre forze che hanno fatto una chiara scelta di campo non è una cosa da sottovalutare perché invece come dire avrebbe potuto prendere o potrebbe prendere una deriva un po' diversa con l'attuale ma è una cosa nuova posso poi veramente certo cioè io penso che state applicando a Elislein degli schemi vecchi qui siamo dentro una nuova generazione anche una nuova una sinistra moderna che interseziona tutte quelle cose che fanno un po' che so che vengono prese in giro nuova lettura delle contraddizioni quindi secondo me vi meraviglierà anche questa cosa di essere radicali dentro uno schema secondo me antico radicali significa andare alla radice delle questioni quindi su questo penso che ce n'è bisogno è una sinistra che in realtà esiste già in altri paesi non tanto europei ma penso negli Stati Uniti se vogliamo il modello della Schlein può essere l'Ocasio-Cortez quindi è una sinistra molto attenta al tema dei diritti che non è senza dubbio liberale ma è liberal diciamo e quindi riprendendo anche un po' quella che era la lezione di Benedetto Croce che scrive il perché non possiamo non dirci cristiani anche da liberali però bisogna riconoscere per esempio il tema dell'identità il tema dell'identità nazionale il tema delle radici cristiane invece questa è una visione più libera che va incontro se vogliamo politicamente corretto ha detto libera al secondo libera si dice perché è una distinzione tra il liberale e il liberale sono due correnti proprio politiche diverse ed è però una sinistra che si sta spostando su delle posizioni che non intercetta quell'elettorato che è un elettorato passatemi il termine per semplificare moderato cioè se avesse vinto Bonaccini probabilmente poteva anche intaccare una parte dell'elettorato di centrodestra invece così facendo la vedo complicata che questo PD a trazione Schlein possa intercettare quell'elettorato che guarda il centrodestra invece diverso il caso del Movimento 5 Stelle però ha accettato molti giovani e molte donne che sono tornate a votare in parte questo è vero e al tempo stesso però può prendere dei voti del Movimento 5 Stelle cioè il rischio che cannibalizza in parte il Movimento 5 Stelle però non lo vedo come una sinistra riformista una sinistra laborista per intendersi pensando al modello anglosassone ma più come una sinistra effettivamente radicale e questo non so se sia un bene in termini poi di consenso anche su quella parte e quella è la sfida anche sul Movimento 5 Stelle Rampelli ce la spiega questa benedetta legge che vorrebbe diciamo così siamo arrivati alla legge diciamo non partecipo al mini congresso del PD che è celebrato non mi sembra elegante allora qual è questa proposta di legge per la quale appunto noi tutti potremmo essere insomma così è stata raccontata puniti non lo so se c'è una sanzione amministrativa se usiamo termini inglesi allora intanto insomma da un lato mi fa piacere che se ne sia parlato così diffusamente della proposta di legge per la difesa e la promozione della lingua italiana dall'altro mi fa sorridere il fatto che nessuno l'abbia letta tutti l'abbiano commentata e tutti abbiano come consuetudine nella nostra nazione commentato i commenti degli altri quindi intanto per cominciare per fare un po' di chiarezza non c'è nessuna contravvenzione avverso alle persone che mantengono in pieno la loro libertà ci mancherebbe altro di esprimersi nella lingua che vogliono quindi lei non prenderà nessuna contravvenzione tanto per intenderci c'è una multa diciamo così ma questa multa è indirizzata alla pubblica amministrazione cosa dice la sua proposta di legge che non è di oggi diciamo anche questo è di qualche anno fa e come accade sempre viene riproposta a inizio di legislatura nuova ovviamente i giornalisti fanno il loro mestiere qualcuno è andato a prendere quella proposta di legge che appunto non è nuova ma è di qualche tempo fa e che cosa dice questa proposta di legge dunque intanto questa legge si ispira a una legge esistente in Europa che è la legge Toubon che c'è in Francia e si ispira in modo particolare alle 18 nazioni su 27 che nell'Unione Europea hanno la difesa della lingua madre addirittura già in Costituzione eccezione fatta per le nazioni anglofone che non ne hanno certo bisogno perché l'inglese è la lingua dominante nel mondo e per le nazioni multilingue la legge che cosa dice dice che le pubbliche amministrazioni la pubblica amministrazione lo Stato le società partecipate gli antipubblici e privati che operano anche commercialmente in Italia le grandi multinazionali e via discorrendo sono tenute a utilizzare in Italia la lingua italiana questo non soltanto per una questione come è stato più volte ribadito di tipo identitario che pure c'è perché io penso che la cultura italiana in quanto tale va da difesa perché è importante per il mondo non soltanto per gli italiani ma perché c'è una vocazione sociale in questa legge che va sottolineata nel momento stesso in cui buona parte degli italiani gli anziani i giovanissimi coloro i quali hanno dovuto sono stati costretti a interrompere gli studi per accedere anticipatamente al mondo del lavoro non possono essere escluse queste categorie quindi ci deve essere un diritto di comprensione un diritto di comprensione rispetto a quello che accade nella nostra nazione in modo particolare rispetto a quello che decidono le pubbliche amministrazioni che se la devono piantare di esprimersi attraverso vocaboli stranieri che non sono comprensibili da parte di almeno la metà dei cittadini italiani quindi quella democrazia facciamo un esempio mi trovo un contratto in banca un qualcosa da leggere e firmare con termini inglesi che mi rendono ancora più difficile la comprensione questo non deve essere questo sta dicendo lei non vuol dire che io non possa incontrare Velardi e dirgli how are you? certamente esattamente questo descrizione perfetta però una cosa banalissima cioè che le leggi italiane pur essendo scritte in italiano sono incomprensibili siamo d'accordo quindi se il gente li fate tutti i buoni oggettivamente la proposta di legge che intendo fare sempre copiando diciamo così l'ispirazione francese è quella sul diritto di comprensione perché in Francia non c'è soltanto la legge du bon c'è anche una legge sul diritto di comprensione che deve entrare anche nel linguaggio della burocrazia che è altrettanto incomprensibile ma certamente lo diventa ancora di più se si introducono termini in inglese o termini stranieri quindi noi dobbiamo rendere la democrazia accessibile a tutti anche agli ultimi io mi aspettavo che la sinistra forse da questo punto di vista è un po' più sensibile perché non si può chiamare una legge addirittura Jobs Act non si può dire spending review scrivendolo nel decreto legge di uno Stato che ha una sua lingua se c'è una traduzione corrispettiva se non c'è si utilizza non come i francesi i francesi addirittura hanno una commissione che alla fine dell'anno prende tutti i vocaboli che nel corso dell'anno sono entrati nel gergo comune provenienti da idiomi stranieri e li francesizza e li presenta al Parlamento li illustra al Parlamento francesizzati io non ho mai scritto nulla di simile nella mia proposta di legge quindi se c'è un termine straniero che non è traducibile che non ha un corrispettivo nella lingua italiana ovviamente anche la pubblica amministrazione se ne dovrà fare una ragione e lo dovrà utilizzare ma se c'è invece una sorta di ricerca spasmodica a fare i fighetti e i provinciali è utilizzare gratuitamente delle parole straniere perché fanno diciamo così ti danno l'accesso a soliti buoni la verità è che per un'ora e mezzo abbiamo fatto tutti un enorme sforzo per cercare l'equivalente italiano e questo è stato un esercizio e nei casi in cui è proprio impossibile non usare bisogna farlo per bene quindi sentire in televisione parlare del jobat perché questo è qualcosa che fa accadere il problema ma io faccio fatica non è d'accordo neanche su questa impostazione allora abbiamo appena parlato di dispersione scolastica cioè il tema dell'analfabetismo anche di ritorno in questo paese è un tema serissimo e quindi della comprensione della possibilità delle persone di comprendere quindi sicuramente c'è un tema di comunicazione comprensione ma c'è un tema di supportare i livelli di cultura e di capacità di comprensione di un testo degli italiani ce lo ricordava Tullio De Mauro addirittura nei concorsi per la magistratura molti vengono bocciati alla prova scritta scritta perché non sanno parlare l'italiano allora il tema tra le tante priorità di questo paese più che questa mi sembra oggi investire sulla scuola pubblica sull'obbligo sul contrasto alla dispersione poi il resto mi sembrano molte nostalgie c'è anche una contemporaneità la mia proposta di riforma costituzionale non è importante avere laureati non usare le parole inglesi ho detto che è importante che i laureati abbiano delle condizioni di lavoro giuste perché guardi se lei parla con tanti giovani se parla con i giovani il problema che pongono sono le condizioni di lavoro e gli stipendi non il fatto del titolo di studio perché poi ci sono tanti non laureati che valgono mille volte di più di laureati non è che la laurea è libera come dice lei a post un tema che vale il contrasto alla precarietà salario minimo tutte queste questioni che riguardano anche il lavoro intellettuale in questo paese dal salario degli insegnanti sono tutte questioni che noi abbiamo nella nostra agenda politica quelle sono priorità di cercare di risolvere questi temi qua intervenire sul cune fiscale per il resto la lingua è una cosa viva quindi io sarei molto attenta Claudio che ne pensi tu di questa proposta di legge negli ultimi anni l'ingresso la trovo sensata per la parte adesso l'ho capita spiegata diciamo dai rampelli per la parte che riguarda la pubblica amministrazione però lì l'aggiunta di Rossi mi pare cruciale cioè il problema di come scrive la pubblica amministrazione riguarda prima di tutto l'italiano diciamo e poi il resto e naturalmente sono anche diciamo più che dubbioso sul vabbè quello del classico chauvinismo francese che gli fa dire ordinateur invece che computer che mi sembra una cosa ridicola quindi diciamo bisogna stare sempre nell'ambito del buonsenso cioè avere la commissione che decide la traduzione italiana di parole ormai usate comunemente e che sono di derivazione straniera la trovo una cosa incomprensibile detto questo in generale però questo è un discorso un po' astratto il mio diciamo io sono un globalista spinto io credo che oramai tutte quante le nostre identità siano talmente diciamo intrecciate fusse che tutto quello che quindi ci fa ricascare su tradizione identità passate e così via sono cose che non incontrano il mio favore però non mi rendo conto la mia è una posizione in questo un po' spinta un po' radicale allora andiamo in pubblicità poi abbiamo un'ultima parte dove parliamo dell'altra notizia del giorno di ieri perché da ieri c'è un nuovo concorrente in più nel senso un nuovo collega in più ovvero Matteo Renzi è diventato direttore del riformista tra poco il quotidiano il riformista sarà un giornale che tenterà di essere innanzitutto la casa di coloro i quali pensano che l'anima del riformismo non sia una parola fedda ma deve essere una comunità accogliente calda divertente se è possibile e su questo siamo pronti a tutte le sfide educative e culturali e io la considero molto in linea con la mia esperienza politica qualcuno mi ha detto ma ora lasci per citare il noto filosofo Mike Buongiorno non lascio ma raddoppio vorrei che questo fosse chiaro nel senso che io continuerò a fare il mio lavoro di parlamentare di parlamentare dell'opposizione continuerò a intervenire in aula nelle forme e nelle modalità che saranno condivise con il mio partito e la mia capogruppo e continuerò a fare esattamente quello che stavo facendo né più né meno ma ci metto sopra un carico da 90 che è quello di un'esperienza per me culturalmente educativamente politicamente affascinante come quella di tentare di fare una operazione che a mio giudizio serve al paese serve soprattutto perché Piero farà il direttore dell'unità e quindi farà una cosa diversa e serve perché in Italia c'è un mondo che vuole dire di sì al nucleare e che vuole dire di sì all'Italia dell'innovazione e non vivere dei no dei niet delle paure o dei decreti legge che bloccano tutto per poi non bloccare niente in questo senso credo di poter dire che non ci sarà una posizione politica legata strettamente alle vicende del terzo polo il terzo polo è chiaramente il riferimento di tante persone che leggeranno il riformista ma il riformista ambisce ad essere eletto come primo giornale già in molti casi è oggi così non soltanto per le battaglie garantiste da un pezzo di mondo dell'attuale maggioranza penso al mondo dei moderati dell'attuale maggioranza penso al mondo di Forza Italia penso al mondo dell'Udc penso al mondo di un centrodestra riformista che c'è che forse fa fatica ad imporsi nelle dinamiche interne della coalizione di governo e che parla a un mondo dell'area del partito democratico soprattutto che magari non si riconosce a pieno nelle posizioni dell'ashline quindi non ci siamo soltanto noi del terzo polo o i mondi moderati o i mondi di riferimento strettamente legati a un partito politico tutt'altro Allora Claudio Velardi mi pare di capire che tu sei contento diciamo di questa nuova nuova veste di Renzi molto criticato ieri qualcuno ha detto fa tutto tranne che il senatore precisiamo anche che Renzi sarà direttore editoriale non può essere direttore responsabile del riformista perché non è giornalista quindi sarà il direttore sì ma direttore editoriale ti entusiasma questa nuova avventura di Renzi? mi entusiasma no ma certamente per noi diciamo addetti ai lavori oppure parte di questo circo diciamo politico mediatico ci farà divertire queste fuori discussione il punto è che nessuno però ha colto mi permetto di dire anche sui giornali stamattina il senso vero di questa operazione di Renzi allora se mi è consentito il brevissimo ragionamento ma perché se i giornali sono come sono in una crisi strutturale e irreversibile cioè non vendono non recuperano denari naturalmente né con gli abbonamenti online né con la pubblicità che non bastano neppure lontanamente a coprire i costi per quale motivo non solo i giornali non chiudono ma ne nascono in continuazione di nuovi o rinascono di nuovi giornali per un motivo semplice perché i giornali e parlo proprio dei giornali tradizionali quelli che la mattina vanno nelle edicole posto che ancora ce ne siano soprattutto nelle assegne stampa perché i giornali fanno l'agenda setting cioè tutti quanti noi i componenti del C a proposito di inglese tutti quanti adesso questa la spieghi che cos'è l'agenda setting l'agenda setting sono i temi che vengono portati diciamo all'attenzione della pubblica opinione e su cui discute tutto quanto il sistema allora perché i giornali vanno all'agenda setting perché la mattina tu i giornali te li ritrovi in tutte quante le rassegne stampa dei decisori dei politici delle istituzioni degli stakeholder altra parola investitori questa la so questa la so investitori stanno su quei tavoli lì non vendono nessun giornale vende poi certo il riformista vende un po' meno del Corriere della Sera ma nessun giornale vende non vendono più i giornali ma sono cruciali perché i politici vengono tenuti sotto scacco dai media dai media tradizionali dai giornali con un titolo o peggio ancora magari con il silenzio allora la mossa di Renzi è geniale per questo perché lui crea questo cortocircuito e va direttamente a fare l'agenda setting a partire da un giornale non conta niente se si tratti del riformista o del New York Times non sarebbe cambiato niente va a tentare di fare l'agenda setting e cioè di imporre ogni mattina i temi di cui la politica secondo lui naturalmente dovrebbe parlare questo è molto divertente molto interessante è un caso di cortocircuito che solo un politico di cui si può criticare tutto ma non l'intelligenza e il dinamismo come Renzi poteva un po' creare appunto da oggi e da domani staremo tutti quanti a vedere la mattina che cosa ci dice Renzi sul riformista è un'occasione irripetibile per lui l'unico giornale chiudo l'unico giornale che ha colto questo pericolo stamattina non sono gli altri che dicono tutte quelle sciocchezze non fa il senatore ancora le cose all'estero quando Renzi parla al senato si ferma si blocca il senato della repubblica e tutti quanti stanno lì a sentirlo l'unico giornale che ha colto questo rischio è il giornale che ha taciuto la notizia di Renzi cioè la repubblica che non ne ha letteralmente parlato se non in due righe di un editorialino di Folli mi pare perché ha capito il pericolo cioè entra un concorrente in scena un concorrente che farà direttamente la guerra ai giornali a partire dai giornali a me pare una cosa molto divertente interessante anche Cecilia De Lì ha detto prima un'operazione politica no in qualche modo confermo non è il primo politico che dirige un giornale certo erano giornali di partito quelli anche gli esempi che sono stati fatti Veltroni quindi questo magari apri intanto un grande in bocca al lupo e buon lavoro a Renzi e al riformista è vero che è un modo per fare politica con altri mezzi poi sull'agenda setting come dice Velardi io credo che quello sia uno dei problemi della politica perché non ci avete visto arrivare a quello alla bolla che si crea che poi magari non ha più un rapporto con la realtà però è evidente che sarà un modo per stare e anche forse per parlare è un'area che Renzi immagina in questo appunto facendo anche come stanno cercando di fare come hanno fatto in questi mesi dalle elezioni ad oggi sia il Movimento 5 Stelle che Italia Viva anche una specie di OPA sul Partito Democratico e sui suoi elettori però appunto penso che sia un'operazione il tema è appunto un'operazione politica da questo punto di vista Rossi intanto c'è da dire che Sanzonetti che era prima direttore riformista andrà a fare il direttore dell'Unità l'editore è Romeo c'è questa diciamo così anomalia che poi suscita le polemiche no? quella Romeo del caso Consip insomma qualcuno oggi ha detto e ha scritto in un altro paese tutto questo non sarebbe accaduto come la legge lei? Temo non riguardi solo quel caso diciamo che l'editoria italiana che la stampa italiana non sia esattamente diciamo frutto di editori puri come si diceva una volta lo sappiamo da tempo diciamo e quindi oggi ci accorgiamo dei casi più rilevanti e quindi ma credo che sia una questione molto più diffusa francamente io mi domando se non ci sia una seconda implicazione lo vedo dal di fuori quindi con ogni probabilità sbaglio ma dopo l'arrivo di Giorgio Meloni e di Eli Schlein il centro è il luogo politico italiano paradossalmente più datato dal punto di vista dell'e-leadership anche se è nato diciamo per ultimo ma dal punto di vista dell'e-leadership è quello più datato e mi domando se questa scelta di Renzi che è una persona intelligente non preluda al fatto che probabilmente anche il centro sta pensando di dotarsi di leadership all'altezza della sfida non dal punto di vista delle capacità che certamente non mancano ai leader del centro ma in grado di avere un'immagine nuova così come gli altri hanno fatto in riferimento all'immagine di Renzi sia Renzi che Carlo Calenda diciamo appunto appartengono ad un certo periodo per così dire e certamente non possono competere con Giorgio Meloni o con Eli Schlein dal punto di vista di ciò che rappresenta una novità per la società italiana intanto perché sono donne che oggettivamente sono una novità le donne siano migliori del loro no 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 siano differenti sì no 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 anche come dire nelle mie classi solitamente le donne sono migliori che si rivolge anche non solamente appunto a una parte del PD ma anche all'altra parte alla parte moderata della maggioranza ma da un punto di vista editoriale è abbastanza affascinante questa operazione e francamente da conservatore che quindi non mi riconosco in gran parte delle idee di Renzi però sarò curioso di leggere quanto scriverà Renzi e la linea che terrà il riformista che a mio modo di vedere sarà molto più critico nei confronti della sinistra quindi molto più critico nei confronti di Schlein e del Movimento 5 Stelle che magari rispetto al centrodestra o alla maggioranza perché Renzi è consapevole che se vogliamo una parte dell'elettorato che votava per il partito democratico dopo la vittoria di Schlein può guardare al terzo polo quindi tutta quell'area che se dobbiamo tornare indietro si rifà al mondo della Margherita o comunque più moderato all'interno del partito democratico potrebbe votare per il terzo polo nel momento in cui il partito democratico ha preso quella linea e al tempo stesso è consapevole e facciamo tutti gli auguri a Berlusconi anche per le sue condizioni di salute è consapevole che c'è una parte di elettorato nel centrodestra che è quell'area che se vogliamo guarda a Forza Italia che potrebbe anche essere un elettorato appetibile per il terzo polo quindi lui da un punto di vista editoriale credo che guarderà questi mondi qua Rampelli Sì intanto ovviamente mi associo all'imbocca al lupo è una nuova avventura quindi insomma spero che abbia tutte le soddisfazioni che merita c'è qualcosa però che non mi torna rispetto a questa scelta perché per dettare l'agenda politica ci possono essere diverse modalità diverse procedure diversi strumenti da utilizzare voglio ricordare che Renzi ha già scelto i suoi strumenti è stato segretario del primo partito all'epoca italiano il partito democratico è stato presidente del consiglio dei ministri quindi la persona maggiormente influente nei destini di una nazione intera mi riferisco ai destini politici economici finanziari sociali è tuttora senatore fondatore del terzo polo fondatore di un partito di Talla Viva e poi insomma associato con altri del terzo polo quindi l'agenda politica se non è riuscita a dettarla da quelle posizioni mi pare un po' strano che possa riuscirci fermo restando che tutti i tentativi di una persona tendenzialmente direi ontologicamente movimentista sono da apprezzare sicuramente una persona che mette sale nella politica italiana però l'agenda politica se la vuoi dettare o se la sai dettare lo devi fare se sei un politico dal tuo punto sotto osservazione è senatore dettasse l'agenda politica dal senato della repubblica una sola cosa dico a Rampelli tutti quelli che ha citato partiti governi istituzioni sono strumenti più faticosi da usare per determinare l'agenda politica e viene un giornale cotto e mangiato ogni mattina e cerca di fare diciamo anche che stanno sconfitto sia ne reverendo che non è lezione in realtà allora siccome è stato naturalmente accennato da Giubilei e c'è grande apprezzione per la salute di Silvio Berlusconi che sapete da ieri è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano noi andiamo subito dal nostro Carmelo Schilinna perché insomma cerchiamo di capire oggi che giornata sarà buongiorno Carmelo che soprattutto come ha passato la notte se ci sono informazioni in più in merito al suo ricovero perché insomma sappiamo che c'è grande preoccupazione anche da parte dei sanitari per la salute di Berlusconi buongiorno Carmelo buongiorno buongiorno Gaia sì è il momento qui a San Raffaele non c'è ancora una diagnosi ufficiale dopo il ricovero di ieri Silvio Berlusconi non c'è ancora un bollettino medico ufficiale chiaramente c'è apprezzione perché Berlusconi anche stanotte avrebbe passato avrebbe passato la notte in terapia intensiva e chiaramente sotto continuo controllo medico di lui delle sue condizioni di salute ha accennato il coordinatore nazionale di Forza Italia ministro degli esteri Antonio Tajani dicendo che avrebbe sentito il professore Alberto Zangrillo medico personale di Silvio Berlusconi e avrebbe che gli avrebbe detto che ha comunque trascorso la notte in una condizione clinica stazionaria dentro il reparto di terapia intensiva dicevo non c'è ancora una diagnosi ufficiale ma diciamo che le indiscrezioni uscite da organi stampa parlano e parlerebbero di una malattia ematica di un problema al sangue dell'ex premier che lo avrebbe esposto a continue infezioni negli ultimi mesi e questo troverebbe un'attinenza sia col ricovero a gennaio 2022 per un'infezione alle vie urinarie qui al San Raffaele sia con il ricovero del 27 marzo scorso un passaggio però solo veloce di pochi giorni e soprattutto con quel presunto problema legato a un affanno respiratorio quindi un problema una crisi respiratoria e una infezione polmonare di ieri che invece ha preteso un ricovero d'urgenza in terapia intensiva è stato sottoposto anche a diversi accertamenti cardiaci sappiamo che Silvio Berlusconi nel 2016 ha subito la sostituzione della valvola ortica quindi la sua condizione a 86 anni è quella di un soggetto comunque cardiopatico la situazione il quadro clinico e l'evoluzione per quella che è stata poi anche questa notte in ospedale sembrerebbe tutto sommato ancora sotto controllo c'è naturalmente apprezzione e grande attenzione su ogni per ogni momento che passa si aspettano anche oggi la visita dei figli che ieri sono venuti sono venuti tutti è venuto anche il fratello Paolo è stato l'unico che ha dichiarato è una roccia ce la farà anche questa volta e il nostro umore è buono ecco al momento questi sono gli ultimi gli unici aggiornamenti che abbiamo in attesa di capire se il professor Alberto Zangrillo che oltre a essere il suo medico personale amico di lunga data è anche il direttore del reparto di terapia intensiva di chirurgia e di toracica qui al San Raffaele in attesa di capire se sarà lui a diramare un comunicato nelle prossime ore attraverso l'ufficio stampa del San Raffaele o se invece scenderà come anche altre volte è successo a dichiarare con la stampa appena avremo aggiornamenti in tal senso ve lo faremo sapere naturalmente grazie grazie a Carmelo Schininà e naturalmente un augurio da parte di tutti questo è evidente affinché Berlusconi possa superare anche questo momento particolarmente complicato grazie grazie a tutti gli ospiti presenti in studio Claudio Velardi in collegamento adesso c'è Andrea Pancani con Coffee Break noi ci rivediamo domani mattina arrivederci da parte di attraverso qui